Ciao, sono Anna, responsabile di I'm Dochet, un'academy natta con l'intento di avvicinare le persone al mondo dell'information technology e in particolare di SAP, il gestionale più utilizzato dalle multinazionali, per cogliere le opportunità che la trasformazione digitale riserva a tutti coloro che hanno voglia di mettersi in gioco. Ciao a tutti, io sono Marco Favero, sono Invento. Siamo riusciti a strutturare un modello di formazione che permette la trasformazione di persone che hanno capacità e che vogliono diventare ancora più formate e sfidare nuovamente loro stessi di apprendere e di fare parte di quel mondo che è il mondo digitale, il mondo dell'information technology, il mondo che può trasformare quello che noi abbiamo attorno in qualcosa di migliore, in qualcosa di più appassionante. I nostri corsi ti permetteranno di intraprendere la strada che con tenacia dedizione ti porterà ad essere un esperto. Ci sono il 40% di posti vacanti tra le aziende che cercano risorse in ambito IT. A chi è utile il percorso offerto da I'm Dochet? A chi sta cercando lavoro? A chi vuole fare carriera all'interno della propria azienda? E chi vuole cambiare azienda per avere accesso ad una più strutturata? Avrai accesso a 4 corsi online da fare dove e quando vuoi per imparare a utilizzare SAP come operatore front-end e imparare come è gestita un'azienda intelligente e avvicinarti al mondo della programmazione. E infine ti rilasceremo un attestato LinkedIn con il quale potrai offrirti subito come operatore che sa utilizzare SAP a livello di front-end. Grazie a tutti! Grazie a tutti!